benvenuti nella landa degli evocatori 30 secondi alla generazione dei minion minione in azione Alla prossima ah Grazie Faccia sfasciata Faccia sfasciata Faccia sfasciata Faccia sfasciata Grazie ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I fucilieri sono dipendenti da gloria. A testa, a base, ho perso la vita. Grazie a tutti. 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 La torre della squadra rossa è stata distrutta. Per la luce! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.